L'ipotesi di un'unica autorità portuale tra Genova e Savona si ripropone periodicamente. Io penso che questa ipotesi, seppur possa avere una sua filosofia, un suo fondamento, sia oggi impraticabile col quattro normativo vigente, perché dal punto di vista della programmazione e dei vincoli normativi si andrebbe a gestire una complessità tale con strumenti assolutamente inadeguati. Quindi occorrerebbe una riforma radicale della legge 84-94 e pensare ad uno strumento operativo gestionale molto più simile a quello dei porti del nord Europa che non agli strumenti che abbiamo oggi dal punto di vista della gestione totalmente pubblica, della regia pubblica con uno strumento che soprattutto deve amministrare il demanio. Questo non vuol dire che non si possa migliorare e integrare la funzionalità degli scali. Già oggi attraverso Ligurian Ports stiamo cercando di collaborare molto anche in prospettiva sui servizi unitari. Vorrebbe dire anche integrare il cosiddetto sistema portuale con i retroporti attraverso una norma specifica, ma soprattutto bisognerebbe pensare ad unificare la pianificazione programmatoria e dei piani regolatori portuali. Credo che questa sfida potrebbe riguardare la futura pianificazione. Ad esaurimento degli attuali piani regolatori portuali si potrebbe definire un piano regolatore portuale unico, penso anche con la Spezia, il che non vorrebbe dire diminuire l'autonomia degli scali, ma programmare e razionalizzare gli spazi in una regione come la nostra particolarmente delicata e sicuramente che non ha spazi in eccesso e deve pensare a conquistare spazi al mare con oculatezza, con intelligenza e soprattutto senza aumentare possibilità di attività non appretamente utilizzabili. Credo che una programmazione giusta potrebbe partire da questo e poi in prospettiva ragionare su una maggiore integrazione tra i due porti. Per quel che riguarda la capacità infrastrutturale del porto di Genova, in prospettiva rispetto anche alle azioni che stiamo facendo di potenziamento, i dragaggi, i riempimenti e quindi il raddoppio della capacità di qui al 2015, sicuramente è importante che di pari passo siano realizzate le infrastrutture. Il primo appuntamento riguarderà il nodo di San Benigno per il prossimo anno, la gronda tostadale è il terzo valico dove finalmente la definizione contrattuale dovrebbe consentire l'avvio dei lavori, che si dovrebbe in qualche modo sposare col completamento dei lavori del nodo di Genova, del nodo ferroviario e quindi garantire quell'infrastrutturazione mista che è fondamentale per dare una risposta concreta a quelle che sono le capacità e le ambizioni di sviluppo del nostro porto. Dovremmo finalmente essere giunti ad una definizione del nodo di San Benigno per l'approvazione in conferenza dei servizi, dopo l'intesa che è stata raggiunta tra autostrade e le istituzioni locali, tra cui l'autorità portuale, quindi l'obiettivo è partire con i lavori nel prossimo anno perché questo garantirebbe una prima accelerazione e la separazione dei flussi legate alla città e al porto in grado di dare una risposta concreta in relazione anche all'ampliamento del porto di San Pier d'Arena, sia per quel che riguarda l'attività commerciale e in particolar modo a due opere, Roncocane, Paebetollo, che vanno a far crescere la potenzialità del traffico contenitori, sia del crescente traffico passeggeri e quindi il nodo San Benigno è un'opera prioritaria che in questo modo dovrebbe essere realizzata nell'arco di un anno e mezzo o due anni a partire dai lavori e quindi dare immediatamente una risposta coerente con lo sviluppo del porto. Ugualmente per quel che riguarda Lungomare Canepa, con l'avvio dei lavori e la sua interconnessione con la rete esistente, si dovrebbe finalmente agevolmente raggiungere lo sviluppo portuale e quindi gli accessi ai barchi portuali in maniera semplificata e ridurre il traffico pesante per quel che riguarda l'impatto sulla città, che da sempre rappresenta un elemento di criticità, sia per quel che riguarda la capacità di rendere più fluido il traffico portuale sia dal punto di vista dell'impatto ambientale. Da questo punto di vista mi pare che la rete infrastrutturale urbana si stia definendo anche ai fini portuali.